buongiorno con il video di oggi voglio parlare di un argomento breve ma a cui tenevo particolarmente intanto vi ricordo al volo di seguirmi sui social se se vi può far piacere e trovate in basso i link che vi portano alle varie pagine passiamo subito all'argomento di oggi parliamo di questo vostro canfibia antimagnetic che ho fra le mani io non amo precisamente i vostro nella mia collezione preferisco più altri altri case produttrici russe però nonostante questo ho anche io i miei vostro preferiti e comunque quando ne trovo qualcuno interessante mi piace comunque averlo inserirlo in collezione qualche tempo fa in un mercatino ho potuto prendere questo vostro antimagnetic quindi si tratta di un vostro riproduzione sovietica c'è scritto cccp in basso come potete vedere e ha un movimento manuale molto semplice non ha neanche la data e il quadrante ha questo colore virato gli indici sono applicati e si possono vedere segni di viraggio e usura anche sulle lancette e sulla cassa si capisce che è stato usato pochissimo perché i segni sono dati solamente dal tempo e dagli anni vissuti da questo orologio e non dall'usura vera e propria dico questo perché quando si acquista un orologio si deve essere in grado anche di valutare il grado di usura quindi valutare se l'orologio è virato che è una cosa normalissima oppure se è stato proprio usato cioè indossato per un periodo per anni magari da qualcuno vi assicuro che un orologio mi è caduto questo perché l'ho smontato adesso ne parleremo vi assicuro che un orologio virato cioè un orologio usato non avrebbe la cassa in queste condizioni che sono praticamente come nuovo tutti questi elementi servono per non per denigrare insomma un orologio usato ma semplicemente per dargli un giusto prezzo eventualmente tutto ciò vi serve anche a valutare l'originalità e la coerità di un orologio perché io qui ad esempio ci vedrei con sospetto delle lancette nuove quindi magari pagherei di più questo orologio rispetto a uno non coerente volevo arrivare su un altro argomento quindi avete visto già che ho smontato questo perché voglio parlarvi del rapporto qualità prezzo dei Bok Tok dei Vostok Antimagnetic questi sono orologi che si prendono anche con 70 80 al massimo 100 euro se si prendono nuovi altrimenti un grado di usura come questo che vedete o meno insomma porta l'orologio a valere anche 50 euro o comunque meno vi ricordo però che quando parlo di prezzi parlo solo di miei pareri e mie esperienze nel senso che se avete idee diverse possiamo confrontarci anche nei commenti senza nessun problema anzi mi farebbe piacere quindi qual è la questione io ho smontato il fondello per farvi vedere come mai questo orologio si chiama Antimagnetic intanto vediamo che il fondello è a vite e questo è già un sinonimo di qualità per la Vostok che ha usato sempre quasi questi fondelli e questa tipologia di chiusura più che altro inoltre ci sta questa guarnizione che nonostante il tempo passato sembra essere davvero in condizioni ottime una volta tolto il fondello troviamo questa piastra questa piastrina metallica quindi serve a proteggere il movimento da che cosa? l'orologio quindi si chiama Antimagnetic perché serve a proteggere quindi il movimento dalla presenza di campi magnetici quindi questa piastrina assicura un funzionamento ottimale anche in presenza di campi magnetici che potrebbero andare ad influenzare il funzionamento stesso dell'orologio perché ricordiamo che comunque il movimento è fatto anche da parti metalliche cioè tutte parti metalliche per cui potrebbe comportarsi un po' come una bussola ad un certo punto se a lungo contatto con campi magnetici questi orologi quindi anche in ambito militare avevano la loro utilità perché la vicinanza di fondi magnetiche poteva alterare l'orario e quindi con questa semplice piastrina si aveva una sicurezza in più sulla precisione dell'orario con questo dove volevo arrivare poi volevo dire anche che quindi il rapporto qualità prezzo di questi orologi al giorno d'oggi è ottimo io non ho idea di quanto costasse questo orologio 30 anni fa prendendolo nuovo non mi sono informato in merito però il fatto che oggi si possa acquistare un buon usato sapendolo naturalmente valutare e andandoci con i piedi di piombo però che si possa prendere un usato come questo per una cifra intorno ai 50 euro e 60 euro quello che sia quindi avendo un orologio sub 200 metri con questa guarnizione il fondello a vite il dial di qualità con indici applicati e anche la piastrina è una cosa insomma che cosa volere di più vi assicuro che questi orologi sono davvero molto precisi e c'è anche la possibilità di regolarli con il classico più e meno del movimento insomma mi dispiace vedere questi orologi bistrattati a volte perciò ho voluto realizzare questo video per rimarcare la bellezza di questi modelli un abbraccio a tutti ci vediamo al prossimo video un abbraccio a tutti i giorni e una buonissima un abbraccio a tutti i giorni